L'ultima prova del campionato italiano a grandi eventi, come di consueto, ha avuto la mitica cornice della Targa Florio Classica e degli straordinari paesaggi di Palermo e della Sicilia occidentale. I protagonisti della rievocazione storica della gara automobilistica più antica del mondo si sono dati appuntamento presso l'Università degli Studi di Palermo, che come da tradizione ospitava al Dipartimento di Ingegneria e dal Museo dei Motori, Verifiche, Segreteria e Direzione di Gara. L'evento, organizzato dall'Automobile Club di Palermo con il fondamentale supporto dell'Automobile Club d'Italia e da Cistorico, ha visto sfidarsi regolaristi in 100 prove cronometrate ed 8 prove di media, distribuite lungo i quasi 600 chilometri di percorso. Ultima tappa del CJ23, che dopo la prima giornata dedicata alle formalità pre-gara, con le verifiche sportive e tecniche, ha visto gli equipaggi impegnati in due impegnative frazioni. La prima, denominata Tour delle Saline, ha visto le 120 vetture al via muoversi alla volta di Marsala e delle Cantine Florio, passando per Partinico, Alcamo, Campobello di Mazzara e Mazzara del Vallo, per poi riprendere la via nel pomeriggio in direzione di Palermo, dopo aver transitato Trapani, Castellammare, Cinisi e Capaci. La seconda giornata è con le strade del mito, con il circuito delle Madonie. Dopo lo start, sempre all'Università di Palermo, i concorrenti hanno toccato le località, che hanno fatto la storia della corsa siciliana. Buonfornello, Floriopoli, Cerda, Calta Vuturo, Castellana, Petralia Sottana, Piano Battaglia, Collesano e Campo Felice di Roccella. Nella seconda parte di tappa, il bel vedere di termini merese ha ospitato la Power Stage Classic, prima del rientro a Palermo per il bagno di folla in Piazza Verdi. L'edizione 2023 della Targa Florio Classica è stata una delle edizioni più entusiasmanti degli ultimi anni. Enzo Ciravolo e Francesco Messina da Campobello di Mazzara, portacolori del Classic Team, su Fiat 508C si aggiudicano il gradino più alto del podio della gara di campionato italiano Grandi Eventi, emergendo a sorpresa dopo una seratissima lotta tra i maggiori interpreti della disciplina, come Mario Passanante, Angelo Accardo e Francesco Di Pietra. La gara senza dubbio è stata molto molto difficile perché sin dall'inizio abbiamo avuto qualche piccolo problema con l'allineamento nostro in macchina, quindi abbiamo perso un po' di terreno. Durante l'arco della giornata abbiamo recuperato abbastanza bene. Poi il giorno dopo ci siamo messi di impegni perché ci tenevamo tanto a vincere questa gara e portare il numero di Campobello sempre in alto. Ciravolo e Messina hanno preceduto Mario Passanante navigato da Alessandro Molgora sulla consueta Fiat 508C del 1937. Il forte driver siciliano, grazie ai punti conquistati, si aggiudica il campionato italiano Grandi Eventi 2023. Beh, l'edizione è stata, me l'aspettavo così bella ed è stata bella ritmata. La mia gara, anche quella, non è stata male perché alla fine acchiappare un secondo posto molto onorevole. Il mio obiettivo era prendere i punti per conquistare il titolo italiano dei Campionato degli Grandi Eventi, ce l'ho fatta, quindi siamo felicissimi io e il mio navigatore per aver raggiunto questo prestigioso obiettivo. Niente, siamo contentissimi, speriamo di continuare su questa strada, di dare sempre fastidio agli avversari sui tubi perché è il nostro primo divertimento, stare lì a schiacciare i tubi e lottare sempre alla pari con gli altri per cercare di superarli. Terzo posto per Angelo Accardo e Filippo Becchina, anche loro in gala su Fiat 508C del 1938 della scuderia Franciacorta Motori. La Mantovana Classic Team si aggiudica alla classifica dedicata alle scuderie e grazie a questa vittoria il team, capitanato da Corrado Corneliani, conquista il titolo italiano 2023. La stagione è stata esaltante, impegnativa, molto impegnativa e vincere l'ultima gara qui in Sicilia, dove c'è una storia immensa dietro questa gara, è stato fantastico. La stagione si è chiusa con quattro primi posti, un secondo e un terzo posto su sei gare, per cui penso che di più non potevamo aspettarci. Tra i giovani in gara la classifica sorride Messinesi Stelio e Maria Luisa Verzera è andata benissimo, veramente contenti, eravamo con una Fiat 1500 e Ghia del 1965, la nostra prima targa Florio, per mia sorella è stata veramente un'emozione grandissima, paesaggi fantastici, la macchina si è comportata molto bene, alla fine ci siamo posizionati 27esimi, quindi davvero contenti, contentissimi. La Power Stage Classic andata in scena sul Belvedere di Termini Imerese ha visto primeggiare i varesini Magnoni-Vanoni su Lancia Fulvia HF1006, con tre penalità totali ed una media di errore di un solo centesimo. Alberto Aliverti e Stefano Valente conquistano in solitaria la categoria RC1 a bordo della loro Alfa Romeo 6C 170SS Zagato del 1929. Nella categoria RC2 dietro ai primi tre della classifica assoluta, quarto posto per Francesco e Giuseppe Di Pietra e la consueta Fiat 508C del 1938. L'equipaggio del Classic Team ha preceduto i compagni di squadra Giovanni Moceri e Valeria Dicembre in gara con una lancia Aprilia del 1937. Allora, manifestazione sempre di alto livello, quest'anno un po' sbilanciata sulle prove di media, però percorso molto bello, sempre organizzazione impeccabile, qualcosa ancora da rivedere, però ci sta perché è un'organizzazione che di anno in anno tende sempre a migliorare, quindi aumentando il numero dei concorrenti ovviamente ci sono anche molte difficoltà tecniche, però fondamentalmente l'organizzazione è promossa a pieni voti. Per quanto riguarda le mie performance ovviamente sono molto soddisfatto di questo piazzamento, ma più che altro non tanto in termini assoluti, ma per la prestazione della mia vettura che è stata la prima volta che ho utilizzato in una manifestazione, la lancia Aprilia del 1937 che si è comportata benissimo, come ho detto ho avuto meccanici al seguito, però non ho nemmeno aggiunto neanche dell'olio, quindi la macchina si è comportata benissimo e mi fa ben sperare ovviamente per le prossime manifestazioni perché è una vettura sulla quale punterò. Massimo Bisi e Claudio Cattivelli ottengono la prima posizione in RC3, nonostante i problemi tecnici che hanno accompagnato la loro Porsche 356 S del 1963 per l'intera gara. Dietro ai portacolori del registro italiano Porsche 356 si piazzano i compagni di squadra Alessandro Virdis e Silvia Giordo sulla 356 in versione Speedster del 1956. Terzo posto per l'equipaggio della scuderia Nettuno Bologna, composto da Alberto Tattini e Rossella Sciolti su Porsche 912 del 1968. Maurizio Magnoni e Marisa Vanoni su Lancia Fulvia HF 1.6 del 1971 sono i migliori in RDC4 con 877 penalità. Secondo posto per Luigino Gennaro e Bruno Furlan su Porsche 911 S del 1974. Dietro all'equipaggio della Promotor Classic chiudono il podio di categoria Alessandro e Costanza Valentini su Innocenti Mini Cooper del 1972. Nella targa Florio Legend riservata alle vetture prodotte dal 1978 al 1990, vittoria per Mauro Cudia ed Andrea Pisciotta su Porsche 911 del 1990. Alle loro spalle si piazza l'equipaggio belga composto da Raff Roger e Kurt Rickmans su Ferrari 400, mentre al terzo posto sono gli austriaci Helmut Bernauer e Birgit Buschek a festeggiare con la loro Ferrari 308 GTS del 1989. Nella targa Florio Gran Turismo che vedeva al via le vetture GT stradali prodotte dal 1991, sono Federico e Gianluigi Smussi a primeggiare a bordo di un Alfa Romeo GTV 3000 del 1996. Seconde classificate e prime della classifica femminile sono Vagna Parolaro ed Ornella Pietropaolo, con la loro Porsche 911 Turbo del 1996. Al terzo posto su Porsche 911 Targa GTS si piazza Enrico Brazzoli, navigato da Egno Tonoli. Io, devo dire, me le ricordo tutte le classiche e sicuramente è stata la più bella. Sicuramente ha contribuito a questo tempo estivo, straordinario per essere metà ottobre, però tutto ha funzionato molto bene, le prove erano bellissime, la Sicilia è bellissima. Se mai un pochino bisognerebbe mettere mano alle strade sarebbe ancora tutto più bello e faremo ancora una più bella figura con tutti gli amici che da tutto il mondo sono venuti per festeggiare questo evento, per partecipare. Aver fatto una targa Florio in un palmarès di un appassionato rappresenta sicuramente qualcosa di immancabile.